Oh, giovani amici di Facebook, oggi puntata un po' retro, non sarà un retro unboxing come altri che ho fatto, ma qualcosa di simile. Andrò a parlare di questa enciclopedia barra uscita settimanale della D'Agostini del 1984. Nel 1983 la Orbis Publishing pubblicò in Inghilterra quella che si chiamava The Home Computer Course e la D'Agostini l'anno dopo la ripropose anche in Italia. Erano i primi anni 80, metà anni 80, un'epoca straordinaria per il computing in generale, uscivano tantissimi device diversi, sia hardware, software, linguaggi di programmazione, insomma un periodo veramente fantastico per l'informatica. Io ho avuto la fortuna di viverlo, anche se ero molto piccolo, in prima persona. Mi fu regalato qualche anno dopo il mio primo Commodore 64, che è questo qua di destra, la versione PC è proprio lui. Dall'84 all'86 uscirono in edicola, erano una via di mezzo tra un'enciclopedia e una rivista di CEO, perché parlavano un po' di tutto. Sono anche riuscito a trovare su YouTube lo spot, ve lo ripropongo, guardate che meraviglia. Logic, chip, bit, lock, un linguaggio nuovo per un futuro che è già presente con il mio computer. Corso pratico di informatica per personal e mini computer, che ti insegna fin da subito a utilizzare l'informatica per lo studio. Il lavoro, la casa, il tempo libero in modo semplice e divertente. Entra nel mondo dell'informatica con il mio computer. In edicola, con i primi due fascicoli, un'eccezionale offerta per acquistare il tuo computer Commodore. Il mio computer è una proposta dei Agostini. Allora, come funzionava? In pratica, ogni settimana usciva un fascicolo in edicola. I più vecchi di voi si ricorderanno che queste raccolte erano veramente molto diffuse sugli argomenti più vari. Questo era dedicato al mondo dei micro, mini e personal computer. Questi fascicoli poi erano rilegabili in dei raccoglitori che anche essi uscivano in edicola e poi c'erano dei trasferibili, ve li ricordate, per mettere il numero sul volume. Questa edizione che ho ritrovato non è la mia originale, io non l'ho mai completata, però poi negli anni sono riuscito a procurarmelo. Si trovano nei mercatini dell'usato, insomma un po' in giro. Costano veramente poco quando li trovate. Dicevo, i fascicoli poi potevano essere rilegati dentro a questi raccoglitori, vi venivano dati sia i fogli interni che appunto i numeri. Questa edizione che ho trovato è in parte rilegata, in parte no, quindi la sfrutto anche per mostrarvi tra un minuto anche come erano fatti i fascicoli. Voglio leggervi velocemente l'introduzione, che è veramente fantastica. Allora, il computer, fino a ieri strumento di lavoro di una ristretta cerchia di esperti, è oggi entrato negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole e perfino nelle case. Pensa un po'. Insomma, una introduzione al mondo dei computer. Ogni fascicolo, qui nel primo volume c'è poi tutto quanto un lunghissimo sommario. Vi dico già che questa edizione era molto incentrata su Commodore, probabilmente era sponsorizzata in qualche maniera. Dopo vi faccio vedere i fascicoli, c'era la pubblicità di computer Commodore praticamente ovunque. Ogni fascicolo, diciamo così, era diviso in diverse sezioni che poi tornavano ciclicamente di fascicolo in fascicolo. Ah, intanto qua vediamo i più diffusi computer in Europa dell'epoca. Quindi l'Atari 400, l'Atari 800, il BBC Micro, Color Geni, il Commodore 64 chiaramente, il Commodore VIC-20, il Dragon 32, l'Epson HX-20, computer che oggi nessuno ricorda probabilmente, il mitico Livetti M10, il Lynx, il New Brain, l'Oric 1, il Sinclair ZX81, il Sinclair Spectrum, grande avversario del Commodore 64, il Sord M5, il T, che è Texas Instrument 99. C'è tutta una carrellata fantastica di illustrazioni e foto dell'epoca, qui per esempio è come installare il microcomputer, no? Per cui vedete le cose standard che caratterizzavano un po' tutti quanti i microcomputer dell'epoca, quindi un joystick, la sfera, questo è un trackball addirittura, c'erano già anche i mouse in parte, il corpo principale, il computer, il registratore a cassette, che era un metodo classico per salvare dati, molto economico, l'unità a dischi che invece costava veramente tantissimo, la stampante che era praticamente solo ad aghi e il televisore o un monitor dedicato. Dicevo prima, ogni fascicolo era diviso in diverse sezioni, erano sette in particolare, erano panorami in cui si parlava un po' in generale di informatica, per cui non so, intelligenza artificiale piuttosto che robe strane. Programmazione basic, quindi tutta una sezione dedicata alla programmazione basic, con veri e propri listati da copiare e programmi da provare sul proprio microcomputer, qui hardware, per cui ogni fascicolo aveva uno o due computer spiegati, illustrati, in questo primo volume lo Spectrum, anatomia di un microcomputer di diffusione europea, tecnologia confronto, all'interno dello Spectrum, quindi pensate che bava avevo io sfogliando queste cose, ancora le prime volte che sono entrato in contatto con questi fascicoli non avevo ancora neanche il comando 64 e sognavo di avere almeno qualcosa, uno qualunque dei microcomputer che vi ho mostrato prima. Programmazione basic, come vi ho detto, panorami è quello che vi dicevo prima, si parlava un po' in generale di informatica, in questo caso è la prima uscita, la nuova rivoluzione, l'avvento del computer sta mutando la vita dell'uomo, il futuro è già qui, la rivoluzione dei computer. Poi software, quindi una spiega di software disponibili sul mercato, semplici o sofisticati, le immagini del computer sono composte da migliaia di punti, il computer deve ricordarne il colore e la luminosità. Le chiavi dell'informatica, bit e byte, quindi diciamo le basi dell'informatica, e questo è molto bello, il computer capisce solo numeri, ma numeri dall'aspetto poco familiare, i byte nella memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Panorami è quello che vi dicevo prima, in questo caso l'insegnante elettronico, anche i più giovani vogliono usare il computer, aiutiamoli così. Hardware, il comando 64, ciaoone, guardate che meraviglia, poi ve li faccio vedere queste cose che le ho qui di fianco in redazione. Panorami ancora, volevo farvi vedere altre sezioni, me ne ricordo altre, primi appunti, programmazione basica, ecco qua, vedete ci sono proprio i listati da copiare, queste sono prime introduzioni, software, vi ricordo che c'era anche una roba tipo linguaggio macchina, che si parla di assembly, molto, molto, non ci capivo praticamente nulla, ma era fighissimo sfogliare queste robe qua, vi faccio vedere anche uno degli ultimi volumi, che come vi dicevo non è rilegato, e quindi si possono vedere, questo è l'ultimissimo, casca tutto qua, questo è l'ultimissimo, come vedete è ancora nella sua forma appena uscito dall'edicola, guardate che meraviglia che erano i fascicoli, è stata quasi una fortuna trovarlo in parte rilegato, in parte no, perché così posso farvi vedere le copertine dei fascicoli che andavano tolte prima di rilegare il tutto, e c'è anche qui in fondo, guardate che figata, istruzioni per l'uso dei trasferibili, vedete insieme ad ogni raccoglitore vi vengono dati i trasferibili dei numeri, in modo tale da poter mettere il numero giusto sul raccoglitore relativo, ma non solo, c'è anche i fogli interni per rilegare correttamente, la mettere qui dentro, poi vi faccio vedere, questo è il fascicolo base, costava 2.200 lire, mi sembra che i primi costassero 2.500, questo è il numero 85, quindi il mio computer è il corso pratico di informatica micro, mini e personal computer, ogni copertina riguardava un po' il contenuto, guardate che meraviglia che sono queste copertine, spesso, ripeto, incentrate sul Commodore, e infatti se vi faccio vedere la quarta è quasi sempre uguale, ed è Regalati Commodore 64, questa maledetta pubblicità mi ha convinto a comprare poi anni dopo il mio Commodore 64, che, ripeto, è questo qua, questo qua invece è il classic, questa è la versione PC, diciamo, che ho avuto io, che uscì qualche anno dopo, invece questa è la versione classic, che mi sono poi comprato, perché la volevo a tutti i costi, chiaramente. Ora, questa pubblicità, Regalati Commodore 64, mai un grande personal costato così poco, è quello che mi ha convinto a rompere le balle ai miei genitori per anni, letteralmente per anni, costava tanto, costava, se non ricordo male, attorno alle 500.000 lire, e per intenderci il lettore floppy, che adesso vi faccio vedere, un secondo, lo prendo perché dovete vederlo, oh, eccolo qua, questo era il mitico lettore floppy 1541, vi stavo dicendo i prezzi, questo non ce l'ho mai avuto, me lo sono comprato di recente come un po' per ripicca, verso i miei amici ricchi dell'epoca, costava quanto il Commodore 64? Costava tipo 50.000 lire in meno, se il 64 costava 500.000, questo costava tipo 450, non me lo sono mai potuto permettere, l'ho sempre invidiato un casino ai miei amici ricchi maledetti. Io invece avevo, come quasi tutti, il mitico Data 7, che non era altro che un lettore e scrittore di cassette audio, in cui era possibile appunto fare press play on tape. La mitica scritta serveva appunto a dire premi play, in modo tale che io possa leggere il contenuto della cassetta, così come era possibile fare record e registrare, insomma, un programma basic che si era scritto. Oppure si potevano duplicare le cassette, ed era un po' la nascita della pirateria informatica, come addirittura si potevano registrare certi programmi dalla radio. In Italia, secondo me, non sono mai state trasmesse, se non qualche magari radio pirata, ma era una cosa che si faceva moltissimo, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti c'era il counter, per cui si poteva, diciamo, riavvolta la cassetta, sapere con il counter qui azzerabile, dove era il programma che si era salvato. Ma vado avanti a mostrarvi questa meraviglia del mio computer, ne prendo un altro qualunque. Qui ho veramente svariati, questi sono gli ultimi usciti, 91, sono uscite 96 di questi fascicoli, qui c'è il Nimbus addirittura, come vedete in quarta c'era sempre questa maledetta pubblicità, mentre in terza, se non ricordo male, esatto, c'era il CBM2, Porsche design stratosferico bellissimo, i professionali su misura, personal computer serie 600, 700, 8000, erano veramente super belli i CBM2. Vabbè, sto veramente divagando perché mi sto perdendo nei ricordi. Come vedete, i fascicoli in realtà erano di una ventina di pagine, costavano 2200 lire, ma i primi sono convinto che costavano 2200 lire, era tantissimo per l'epoca, parliamo veramente di metà anni, 80, erano tanti soldi, 96 fascicoli sono tipo 250 mila lire, quante sono? Poco meno, 220, 200 mila lire, erano un sacco di soldi per i nostri genitori. Certo, sì, spalmati in due anni però, fatto sta che, guardate però che belli che erano con queste impaginazioni particolari, questi font, queste foto incredibili dell'hardware dell'epoca, questi listati da copiare, mi ricordo benissimo perché appunto la maggior parte erano per cammino 64, io avevo il 64 e mi mettevo lì a copiare, la vedete qua, REM, GENE, allora il programma GENE, le principali strutture di questo sistema di apprendimento evoluzionistico sono le seguenti matrici e variabili, adesso non sto, non vi ricordo assolutamente di cosa parlava e cosa serviva a questo programma GENE, ma vedete che era possibile copiare riga per riga, con i suoi numerini, REM, appunto il commento, GOSUB, che figata ragazzi, che meraviglia, insomma alla fine tutto qua, vi consiglio di cercare il mio computer perché è veramente una raccolta, ecco qua queste sono le sezioni principali, quindi hardware, laboratorio era diciamo, hardware rappresentava come vi dicevo i microcomputer dell'epoca, il laboratorio era addirittura dedicato un po' all'elettronica, per cui mi ricordo che si poteva costruire tipo un braccio meccanico comandato dal proprio microcomputer, o altrimenti qui circuiti audio parla, per cui adesso immagino che si potessero fare anche cose simili, poi software, appunto come vi dicevo prima, panorami molto generico, notte di informatica, anche questo generico in generale sull'informatica, programmazione basic, una sezione dedicata a quella gialla, linguaggio macchina, ecco appunto, ricordavo bene, e poi software ancora, per cui praticamente c'erano queste diverse sezioni che tornavano, di fascicolo, in fascicolo ne apro un altro, in imbus, una stampante brother qui in copertina, ma mitico, la banana interface, anche questo era un metodo, un metodo, un hardware da usare a scuola, con tutti i connettori banana, vediamo se riesco a beccarlo, con tutti i connettori banana che permetteva la banana interface, un'interfaccia per la didattica hobbistica, o per qualcosa di più, la banana interface prodotta dalla Castle Associated, è un apparecchio utile per il controllo di periferiche esterne, progettato appositoriamente per la didattica, insomma serviva a collegare i propri microcomputer con dei device esterni, la banana interface, così chiamata per il largo impiego di spinotti, detti appunto a banana, esatto, quello che vi stavo dicendo, ma ce n'è veramente un'infinità qui, corso pratico di informatica, bla bla bla, ah poi ci sono ancora delle, ah guardate che meraviglia, delle pubblicità, grande concorso di Agostini, premi per oltre 200 milioni, primo premio 100 milioni in gettoni d'oro, vi ricordate i gettoni d'oro? e la cartolina a francare come cartolina postala, strano di solito se l'ha scritto non a francare a carico del destinatario, insomma ci sono anche le varie pubblicità, guardate qui in quarta c'è ancora il maledetto cbm2, Porsche design, è fantastico, guardate che bello che era, un design incredibile, appunto progettato dal centro stile Porsche, me lo ricordo perfettamente, in terza immagino che ci sia ancora, maledetti, regalati Commodore 64, software Shadowfire, solo 100 minuti per salvare un ambasciatore prigioniero di un'astronave, vedete c'erano anche un po' delle recensioni di software, per quello che mi dicevo, che era un po' una via di mezzo tra una rivista settimanale e una enciclopedia, nuovo mondo 1, il listato completo e le modifiche necessarie per i vari home computer, c'era tutto il listato in basic per Commodore 64 ma anche per gli altri microcomputer, lo Spectrum se non ricordo male era praticamente uguale, vediamo un po' se c'è scritto la versione basic e compatibile con quella di altri apparecchi, per usare il programma sullo Spectrum occorre attenersi ai seguenti principi, lo Spectrum accetta solo nomi di variabile formati da una singola lettera, siete fottuti, mi spiace, possessore di Spectrum, Commodore 64, rule-less, insomma, 130XE, eccolo qua, che meraviglia, database, la nona tabella della mappa di memoria del Commodore 64 per concessione della Commodore Business Machines, tracciamenti fantasiosi, la sezione conclusiva del software di controllo per il tracciatore digitale, si possono fare veramente cose incredibili, in realtà la maggior parte, probabilmente nessuno le ha mai fatte, però fatto sta, io ricordo invece che copiavo i programmi in basic alla stragrande, non solo da qui, c'erano tantissime riviste, robe simili che uscivano, che ti proponevano listati, o spesso cassette in allegato con già dentro i programmi, anche perché era facilissimo, chiaramente dovendolo copiare da una rivista o da un libro, sbagliare qualcosa, poi vi lascio immaginare le bestemmie per riuscire a capire dove si era sbagliato, qui c'è ancora la pubblicità, dal 2 gennaio in edicola a sole 3800 lire, con i primi due fascicoli in regalo all'Atlante Geografico per tutti, grande enciclopedia e istituto geografico di Agostini, in quanto ancora ragazzi c'erano le enciclopedie, gli atlanti, come fate a non ricordarle, voi giovani in ascolto che siete nati nell'epoca di internet, quanto vi siete persi, però in realtà avete anche un grande vantaggio, nativi digitali maledetti, panorami, notte di informatica, questioni di linguaggio, sto sfogliando un po' perché non voglio più smetterlo, questo video sarà eccessivamente lungo, ma chi se ne frega, il mondo delle liste inizia una serie dedicata alle caratteristiche del linguaggio Lisp, addirittura quindi altri linguaggi c'erano anche, non me la ricordavo sta cosa, laboratorio, linee di melodie, il progetto dell'interfaccia MIDI prosegue, addirittura quindi tutto un progetto per realizzare un'interfaccia MIDI, da collegare al proprio microcomputer, con addirittura, vedete tutti quanti, con collegamenti a pettine, con l'auto della scheda, il cavo a nastro, eccetera, eccetera, piattine a non finire, il quick data drive, un'efficiente alternativa all'unità di schietti della Commodore addirittura, questo non me lo ricordavo, per cui vedete qui il 1541, il data set, ve l'ho appena fatto vedere, sono qua, e c'era questo quick data drive, che non ricordo assolutamente, un corridore vincente, il mercato non offre molte alternative alle lente e memorie di massa, quali l'unità di schietti e a cassette della Commodore, il quick data drive comunque è un dispositivo alternativo molto convincente, è usato su un sistema a wafer che utilizza nastri ed anello identici a quelli della wafer drive Rotronics, era veramente un'epoca di grandissime innovazioni e di anche grandi inculate, perché uscivano sistemi che magari dopo sei mesi o dopo un anno scomparivano, e qui in terza c'era anche il mitico Vic 20 perché voleva spendere meno, o poteva spendere meno purtroppo, oggi c'è Vic 20 a prezzo speciale, speciale, specialissimo, invece dei soliti videogiochi prova Vic 20 e guarda quante cose fa in più, uno, Vic 20 è una valanga di videogiochi, uno più bello dell'altro, uno più nuovo dell'altro, ma Vic 20 è un computer e fa molto di più, lo usi per la scuola o per la casa o per la professione, ci sono pronti pronti un mucchio di programmi, metti le cassette e via con cose utili, puoi imparare il basic, la lingua del futuro ed è facile facile imparare a programmare, 5 nel mondo sono stati venduti più di un milione di Vic, a gente sveglia, quelli del 2000, perché accontentarsi di un semplice videogioco? Commodore Computer via Fratelli Gracchi 48 Cinisello Balsamo Milano, che meraviglia ragazzi, è stato molto bello risfogliare insieme a voi questa enciclopedia, barra uscite settimanali di metà anni 80, se siete dei nostalgici come me vi consiglio di cercarla su ebay o ancora meglio nei vari mercatini dell'usato, si chiama Il Mio Computer dell'Istituto Geografico di Agostini, erano 8 volumi, ricordatevi, se li trovate così sciolti ricordatevi che sono 96 in tutto e che altro dire, viva viva gli anni 80 e l'informatica nata durante gli anni 80, se vi piacciono i miei in cauto unboxing o retro unboxing come in questo caso mettete un bel like, shareate il video ai vostri amici che hanno vissuto quegli anni e che potrebbero essere interessati e mi raccomando regalati Commodore 64, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!